Iocca, madre d'amore, siano te calori, mattini cuori, immaturata, regata per noi, siano te calori, mattini cuori, immaturata, regata per noi, siano te calori, siano te calori, mattini cuori, immaturata, regata per noi, siano te calori, mattini cuori, immaturata, regata per noi, siano te calori, mattini cuori, immaturata, regata per noi. Siano te calori, mattini cuori, immaturata, regata per noi. Dica, area fisca, si trali, mattini cuori, immaturata per noi, mattini cuori, immaturata per noi, antici paragonia, Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Santa Maria, Madre di Dio, Grazie a tutti. 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 a tutti. Perdona, Grazie a tutti. e a tutti. Tu tu sei. Dio, soave al cuore e il tuo sorriso, O Santa Vergine del Paradiso, la te del cielo a te si inchina, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 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 Grazie a tutti. 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 peccatori adesso è l'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetta fra le donne e benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori prega per noi peccatori prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia per noi peccatori grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria piena di grazia il signore con te prega per noi peccatori prega per noi peccatori prega per noi peccatori prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo prego prego perdono maria vergine immacolata e maria bravo parliamo ma Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Adesso ci prepariamo all'ingresso della Madonna in Chiesa Madre. però prima un piccolo, proprio piccolo spettacolo pirotecnico. Un piccolo, proprio piccolo spettacolo pirotecnico. si, grazie a tutti. 6iem Grazie a tutti. 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 Viva Maria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.